Onorevole Berretta, state discutendo in commissione lavoro di un testo ampliato dal PD che mira ad escludere il trattamento pensionistico per mafiosi e per i condannati per terrorismo. Sì, noi tendiamo a colpire due fatti specie, emersi dai fatti del cronaca che molti boss della mafia, dopo anche essere stati condannati, chiedono il trattamento di disoccupazione, l'assegno sociale. Noi crediamo che sia assurdo garantire a questi soggetti queste forme di tutela e quindi abbiamo ritenuto che nel caso di condanna per reati talmente gravi venga preclusa la possibilità di accesso all'assistenza sociale e nel caso in cui si dimostri che in realtà il rapporto di lavoro non è mai esistito, è stato un rapporto fittizio, chiediamo anche che si revochi il trattamento pensionistico. Questo è un trattamento ovviamente particolarmente grave, particolarmente pesante ma noi riteniamo che chi si è immacchiato di reati così gravi come quelli della mafia e come il terrorismo debba essere punito e punito severamente.